Mister, non c'è tempo per fermarsi, dopo la Juve arriva la Roma in questa cinque giorni di intenso calcio, è un grande spettacolo anche se vogliamo all'uscita, ma il cronone deve pensare al sodo, deve pensare a poter far punti anche contro una scorazzata come la Roma. Come sempre ci diciamo, ma che poi ovviamente è più difficile da realizzare, ma noi non cambiamo mentalità, non sono cinque giorni, sono molti di più perché all'atto pratico noi comunque faremo queste tre pareti in una settimana, questa la terza e poi alle 12.30 e poi giocheremo l'anticipo di sabato contro l'Atalanta a Bergamo e quindi credo che ci siano tutti i requisiti per poter dire meno male che si gioca perché noi ci divertiamo di più a giocare. Mister, parliamo dello stato fisico dei suoi ragazzi, ha detto che farà qualche cambio, qualche avvicendamento, ci sarà per forza di cose? Beh, un paio sicuramente ci saranno, due o tre vedremo, il punto è che noi abbiamo ormai una cosa consolidata, un atteggiamento consolidato che però nelle ultime due partite, vista l'assenza di un giocatore particolare nel nostro scacchiere, ci ha messo nelle condizioni di trovare degli aggiustamenti e degli adattamenti. Io sono convinto che arriva la Roma e quindi arriva la Roma con un preciso modo di giocare che ha cambiato nell'ultimo periodo, noi l'abbiamo cercato di studiare con grande attenzione e cercheremo di poter fare una partita che ci permetta nella condizione di poter resistere ai loro attacchi migliorando la gestione di alcune ripartenze. Proviso di Roma, una squadra che è in trasferta a problemi a ottenere i risultati? Io credo che la Roma non abbia chissà quale tipo di problemi, vista la qualità della Rosa, sono gli antagonisti dei campioni d'Italia e lo dimostrano, credo, le partite che sta giocando e con la qualità con cui le sta giocando. Ciò non toglie che noi, ripeto e continuo a dirvi, che contro queste squadre qui noi dobbiamo essere bravi a trovare la giusta strategia per cercare di essere competitivi. Se questo prevede il fatto di avere un baricentro basso, faremo così, dobbiamo solo migliorare alcune cose nelle ripartenze. La domanda non è mia, gliel'hanno già fatta, ma in caso di vittorio davvero consegneresti lo scudetto alla Juve? A me non interessano queste cose qua, a me interessa sapere che la mia squadra si preparerà a giocare contro un'altra grandissima squadra in virtù del fatto che ci sono delle cose che facciamo molto bene e altre che dobbiamo migliorare. Poi arriveranno delle partite importantissime dove magari la percentuale di poter fare punti si alzerà e noi dobbiamo essere pronti.